Finalmente il nostro giorno è arrivato, ancora non mi sembra vero, però calma fino adesso inizia a venire un po' la tensione, sicuramente sarà tutto perfetto come l'abbiamo sempre sognato. Non vedo l'ora di vederti, la prima uscita sì, ho capito subito che sarebbe stato l'amore della mia vita, è veramente una persona fantastica, mi rende felice, è nata subito una sintonia che ci ha avuto fin da subito. Coroniamo il nostro sogno, sarà per sempre. L'ho vista una sera a febbraio del famoso 2020 e tra me pensavo chissà dove abita, poi casualmente la settimana dopo l'ho vista in giro con gente che conoscevo e ovviamente il contratto è stato subito, Covid, quindi trova bene data, chi è che l'arriere? E invece no, siamo arrivati a maggio che ci siamo visti una volta, la seconda volta direi che ora mi ha accompagnato a sistemare la tuta della moto e da lì abbiamo fatto tre anni come arrivava da oggi, cioè proprio è un percorso stupendo, la parola giusta è stupenda. A me non piacciono i gatti, ma questo qua l'aveva già capito da subito, però dai, 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 pur essendo allergico, alla fine ti entra nel cuore. Ho scoperto di essere allergico e quindi è iniziata la tortura per tutti, però devo dire che per amore ha superato anche questo e ha iniziato a convivere con un gatto che odia ma che ha imparato a voler bene per me. Stiamo andando alla grande in tre con la convivenza. In quest'anno di tempo sistemeremo anche i brazi e poi il rapporto giusto. Io la moto le ho sempre piaciute fin da piccolo, a lei mi ha sempre detto no a me le moto fanno paura, non ci salirò mai. Poi quando io le ho spiegato che andavo in pista per starmi vicino, è sempre venuta, sempre, sempre, sempre. Anzi, mi incoraggia. Quando siamo nella situazione lei mi sta proprio vicino, proprio bella questa cosa. Sarò sempre la sua ombrellina e non gli viterò mai di andare in moto, come tutti continuano a dire, perché basta so che la sua passione è un po' mi piace, vederlo quando va in moto. Mi siamo fatti uno per l'altro, ho sempre pensato. Gli ho detto che non ci saremmo più li visti, che non riusciamo a star lontani. È più bello stare con lei, perché è una persona che ho sempre cercato, non cercavo altro, l'ho trovata. E oggi la sposo anche, quindi vuol dire che proprio la ragazza è fatta per me. È sempre allegro, sempre divertente, rompipallo ogni tanto, vignolo preciso, però mi completa, ci completiamo vicenda, cresciamo insieme a vicenda, stiamo proprio bene insieme. Per la prima volta posso dire di essere felice e di desiderare questo momento. Sono teso, no? Un leggero, un neve me. È una sensazione molto particolare, è una sensazione bellissima, mai provata. Ti senti il carico, agitato, teso, alla stessa maniera, però... Tanti amici che mi sostengono, i genitori, la famiglia, fratelli, i nipoti... Mi auguro di non svenire che mi sostiene di fare, di non emozionarti, sarà impossibile. Viviamoci questa giornata a pieno, con l'affetto e la vicinanza di tutti i nostri amici e parenti, come proprio una giornata di festa. Alessandra e Stefano, siete benvenuti. siete benvenuti a contrarre matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione. Io, Stefano, prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Alessandra, prometto di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Ce lo diciamo ogni giorno, quanto ci amiamo, abbiamo i nostri momenti, i nostri abbracci, ci raccontiamo ed è proprio il nostro momento che vogliamo mantenere. Sì, grazie per aver creduto in noi fin dall'inizio. Ti prometto che mi impegnerò il più possibile per non farti arrabbiare, anche se un po' mi piace, perché facciamo la pace con uno dei nostri abbraccioni. Con te ho conosciuto l'amore e quello vero, uniti per sempre. Chiamo tanto. Ciao. 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 Fai qualsiasi cosa per stare sempre con te. Grazie di tutto. Mi amo tanto, tanto, tanto.